il sorprendente giuliano di raffaele di napoli supera 2 a 1 il monopoli e si porta al quarto posto solitario in classifica nuova sconfitta d'altro canto per i bianco verdi che trovano sulla loro strada un super felipe autore di una doppietta minuto 16 in azione piova cari pallone che dopo una deviazione di bizotto giunge tra i piedi del numero 5 dei tigrotti che deposita alle spalle di vettorel felipe goleadori in avvio di ripresa con questo pregevole gol in acrobazia l'undici di pippo pancaro non ci sta e accorcia con pinto al minuto 58 i bianco verdi prendono coraggio e alzano il baricentro giallo blu che tengono e cercano di non crollare ancora nel finale starita conclude viscovo risponde sulla ribattuta amlili si divora il pari si chiude così al partenio il giuliano vince e agguanta il quarto posto in solitaria